Vuoi imparare a salvare una vita? 14-20 di ottobre, viva! Settimana per la rianimazione cardiopolmonare. Cioè, viva è l'associazione, è il nome. Non viva, anche viva la settimana, ma viva è l'associazione che si occupa. Cioè, 14-20 di ottobre, viva! 14-20 di ottobre, viva! iscriviti al canale ! Viva! C'è 14 video di ottobre. Viva! Grazie per la visione! Grazie per la visione!